Umberto Tozzi, immaginate la famiglia di Umberto Tozzi, questo che si rinchiude due settimane sopra una manzarda per scrivere il pezzo nuovo, no? E la mamma e il babbo di Umberto Tozzi aspettano giustamente il figliolo e su a scrivere il pezzo. Allora, oh madonna però il bimbo non mangia nulla, ma come mai? Eh ma perché su ora gli a lavorare, vedrai Umberto il mio figliolo quando viene tu vedrai fa un pezzo, gli uberi hanno già delle idee. Eh ma non mi mangia nulla, quanto scende e mangia, non ti preoccupare. Passa un mese questo aspettare il figliolo, dopo quattro mesi, immagina il babbo e la mamma di Umberto Tozzi seduti sui divani a aspettare il figliolo, scende il figliolo e dice mamma, babbo. Allora io ho fatto la canzone, eh? Oddio lo sapevo, il mio figliolo è tanto bravo, sì sì sì, lo sapevo, erano tre mesi in manzarda e vengono le canzoni. Ho scritto un album mio, però se gli ci vuoi così, però un ragazzo, allora, pronti? E parte. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E babbo, ora cambia, ora cambia, fa un po' così all'inizio, vuoi che gli gambo, ma ora cambia, ti amo, ti amo. C'era stato un periodo, ci si aveva il soleato, chi se li ricorda il soleato? Io parlo per quelli della mia età, 48, 46 anni, chi, chi conosce? Oh, 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 il testo era questo. Oh, 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 vedi se la sanno. Se ora gli fa cantare una canzone, non la sanno. Non restare chiuso qui. Che hai detto te? Casoria? non restare chiuso qui casoria prima che chiami Poo domani perché, no, sui testi è una responsabilità si può dire a una donna ti raserò l'aiola io penso proprio di no se è una ragazza intelligente dici già che tu ci sei, dammo anche una potatina alla siepe per favore si può dire ti raserò l'aiola tanti indabadandè, indabadandà qua non sanno cosa scrivere, no? Ramazzotti siamo ragazzi di oggi indabadandè, indabadandà che cazzo gliene frega indabadandè, indabadandà fatta la canzone, no? che ci vuoi indabadandè? che si parla così in noi Ramazzotti, indabadandè, indabadandà non è che io vado a comprare un etto di prosciutto mi dà un etto di prosciutto come lo vuoi prosciutto? indabadandè, indabadandà no, ci si mette le parole tu mi dici indabadandè, indabadandà dopo è chiaro che io mando un messaggio la colpa è tua poi con i T9 ora mandai un messaggio per San Valentino con i T9 i T9 è un sistema intelligente tu vuoi mandare ciao? miau, bau, plio, tlio, flio, slio, clio, tlio, blau, lai mao, va ceca mao ma ciao non me lo scrivi è un sistema intelligente portami la giacca blu scrive portami la giacca clou ma come può essere che una giacca è clou e che bazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti